Il nostro magazine è dedicato alla salute, al benessere, alla sanità, all'eccellenza della nostra regione e di eccellenza certamente parliamo, la ricerca dell'IST San Martino di Genova, siamo con il direttore scientifico Maglio Ferrarini, buonasera professore, ben trovato, anzi buongiorno, ben trovato a Stop & Go Salute, devo per forza chiederle perché è giusto che il nostro pubblico cominci dall'ABC, che cosa è l'IST e di che cosa si occupa questo istituto? Noi siamo nati da questa fusione fra l'istituto Tumori, che era un istituto diciamo di nicchia piccolo e che quindi aveva delle difficoltà anche gestionali, con il San Martino che era esattamente l'opposto, cioè un enorme ospedale e in qualche modo doveva trovare un pretesto anche per riorganizzarsi e anche crearsi un cancer center perché oggi i grandi ospedali hanno un centro dedicato alla cura del malato oncologico che rappresenta circa il 30, a certe volte anche il 40% della popolazione di malati. Quindi in questa situazione noi abbiamo avuto una fusione, adesso c'è un grande ospedale che ha al suo interno un centro dell'istituto tumori di fatto dedicato alla cura del cancro e naturalmente questo cancer center usa anche moltissime delle facilities del San Martino perché chiaramente la medicina è qualcosa di complesso, è tutt'uno, non è che si può così Certo, non c'è diciamo soltanto la ricerca che si fa diciamo così di base ma è una ricerca che si chiama poi traslazionale, che va a portare le scoperte proprio sul letto del paziente che può poi portare dei risultati. Io questa settimana ho fatto una passeggiata con il professor Ferrarini mi ha accompagnato molto gentilmente all'interno dei laboratori dell'ist San Martino e devo dire che vabbè come tutti i neofiti sono rimasto colpito dalla qualità del lavoro, dalla qualità dei macchinari, dagli spazi che sono a disposizione. Il cancro è proprio una brutta bestia diciamo così, però all'interno di queste stanze, non soltanto qui, ovviamente ovunque nel mondo ci sia un centro di questo tipo, si lavora per tentare di sconfiggerlo. Sì, bisogna direi la prima cosa, bisogna stare attenti a dire adesso troviamo la pillola del cancro, non è purtroppo così, purtroppo nel passato c'è stata un po' una certa fretta, adesso ci si rende conto che il cancro però si può studiare, si può classificare meglio di come lo facevamo una volta, si può trovare quali sono le cause che portano al cancro, è ormai accertato che il cancro è dovuto al fatto che in una singola cellula si guasta un certo numero di geni, noi oggi possiamo contare i geni che si sono guastati e cominciano a esserci farmaci che ci possono permettere di riparare in qualche modo questi guasti. Capite che il lavoro è tanto perché se noi diciamo cancro del polmone, una volta era il cancro del polmone, poi si poteva classificare in due o tre sottocategorie, oggi abbiamo i cancri del polmone che hanno certe lesioni igieniche, cancri del polmone che hanno altre lesioni igieniche e quelli che ne hanno altre ancora e avremo presto i farmaci che ci permettono di colpire queste lesioni. Posso chiederle se dal suo punto di vista la strada è questa, cioè se pensate di aver trovato la strada da perseguire, che quindi poi in fondo a questa strada ci sarà, non dico la risoluzione al 100%, quindi la salute totale rispetto al cancro, ma insomma… Beh, la strada è questa e tutto il mondo sta percorrendola e lo sforzo è enorme perché per capire queste cose che ho tentato di spiegare velocemente bisogna per esempio sequenziare il DNA di ogni cancro e bisogna sequenziare mille, duemila cancri per capire bene le cose, quindi è un lavoro di biologia molecolare enorme e per questo ci vogliono laboratori, denari, organizzazione. Ecco, parliamo dei denari per un istante professore perché sappiamo benissimo che il problema è economico in molti casi, in Italia poi abbiamo un punto di partenza, ora lei magari me lo smentirà o me lo confermerà, troppo poco denaro viene attribuito alla ricerca, peraltro lei è reduce dagli stati generali della ricerca che sono tenuti a Roma, ci porta anche delle buone notizie da questo punto di vista, però? Direi di sì, innanzitutto c'è uno sforzo di investire denaro e questo è una cosa importante, però l'investimento del denaro di per sé non basta perché buttare del denaro a pioggia in un sistema che non è organizzato la cosa non va bene, c'è troppo spreco e non c'è una strategia. Quello che sta venendo fuori è che si cominciano a delineare strategie, che cosa facciamo in grandi gruppi, come li finanziamo e questo è uno sforzo che devo dire sia il Ministero della Salute e anche il Ministero della Pubblica Istruzione in tutte le sue varianti, diciamo così, è un qualche cosa su cui si stanno impegnando. L'altra cosa che forse gli italiani non se ne sono mai accorti, ma in Italia non c'è il mestiere di ricercatore. Ecco, lo diciamo forte perché noi siamo amici per esempio dell'IT, no? E allora parliamo della ricerca, il robot ci affascina, d'accordo, ma ci sono tante altre ricerche importanti che si fanno all'IT, però noi sappiamo anche che i ricercatori, avete visto recentemente c'è stata una scoperta dei ragazzi italiani che l'hanno fatta, però all'estero, allora il Ministro dice che bravi i nostri ragazzi italiani, i ragazzi italiani spernacchiano il Ministro e gli dicono, senta un po' Ministro, ma noi siamo andati via, scappati dal nostro Paese perché non avevamo la possibilità di lavorare. Non esiste una carriera professionale in questo momento del ricercatore, cioè sono ragazzi pagati come niente, come un po' poco insomma. Certo, questo è una cosa veramente che contrasta con tutto il resto dell'Europa e del mondo occidentale. È ovvio che si vada via insomma, no? È ovvio che si vada via perché uno in Italia dice, beh, fa ricerca per un certo numero di anni, poi si mette a fare il medico, uno fa ricerca per un certo numero di anni e poi va a fare il professore universitario e allora la ricerca è semplicemente far vedere che si hanno dei numeri per avere qualche cosa d'altro. Invece la cosa da fare è fare delle carriere di ricercatore che siano differenti da quelle degli altri, siano giustamente pagate perché... Stiamo parlando di ragazzi, cioè non è che parliamo di studenti delle superiori, parliamo di laureati, di trentenni che hanno una laurea, un dottorato, una fatica enorme alle spalle, è chiaro che li dobbiamo anche selezionare. Non tutti potranno prendere il premio Nobel, ce ne sono alcuni che saranno più adatti a fare altri mestieri, ma il training che hanno avuto li potrà portare a fare un altro mestiere e selezioneremo una classe di professionisti, non di ricercatori che magari fanno lezioni all'università e part time fanno la ricerca o di... addirittura ci sono persone che fanno i politici o fanno altre cose e poi ogni tanto vanno a fare lezioni all'università. Bisogna dare una serietà generale. Esatto, non è quello il risultato. Però naturalmente al di là della carriera del singolo ricercatore che non è secondaria nella qualità della ricerca, io sono convinto, perché se una persona è contenta del proprio mestiere, se è contenta della propria retribuzione, se può farsi una vita, una famiglia, perché poi i problemi sono questi, evidentemente sarà più anche produttivo nel suo lavoro e più motivato a portarlo avanti, anche oltre, voglio dire, l'età in cui normalmente un ricercatore passa ad altro mestiere. Ma c'è un problema anche di risorse, come dire, da gestire. Ad esempio l'IST, come si finanzia? Beh, il problema è abbastanza grosso, perché questo problema che la ricerca poi non è un mestiere si travasa, diciamo così, anche quando si fa nei bilanci. Per cui è chiaro che in un ospedale tutti dicono, ah beh, ma la cosa più importante è curare i malati. Verissimi. Però noi li possiamo curare anche meglio se facciamo anche della ricerca, quindi bisogna trovare una giusta nicchia finanziaria anche per la ricerca. Ora il Ministero ci dà dei soldi, la Regione anche ci dà dei soldi, questi non bastano. Onestamente quello che prendiamo adesso, noi prendiamo 18 milioni l'anno, 9 dal Ministero e 9 dalla Regione, adesso faccio vedere. Questi sono in grosso modo deciso. In grosso modo, che però poi finiscono per andare tutti in stipendi, in mantenere in piedi la struttura, eccetera. Quindi ogni ricercatore si deve, oltre al suo lavoro, trovare i soldi per fare la ricerca. E questo è un impegno. C'è in tutto il mondo, però da noi non c'è una struttura... C'è una base troppo bassa soprattutto, no? Esatto. E poi c'è anche, non c'è una struttura come per esempio negli Stati Uniti, dove ogni sei mesi uno sa che può chiedere dei finanziamenti. Gli daranno, non glieli daranno, questo è su una base competitiva, fatta da scienziati e se non te li danno mai, poi a un certo punto capirai che non potrai continuare a fare il ricercatore, ma se continuano a darti i soldi, vai avanti, sei tranquillo. Senta, il 5x1000 è un altro dei modelli di finanziamento che esistono in Italia e naturalmente scegliere un istituto per tutte che un altro fa la differenza. Secondo me il 5x1000 è una cosa molto civile perché innanzitutto permette al cittadino di scegliere quello che veramente vuole potenziare nella nazione. Se noi diciamo, studiamo il cancro, e il cittadino sa che se ci dai soldi a noi tutti quei soldi vanno lì. Noi possiamo anche dire come li usiamo, l'abbiamo detto, l'abbiamo messo in internet, quindi è tutto trasparente. L'altra cosa è che è denaro utilizzabile senza tanta burocrazia, questo non vuol dire che viene spartito fra i soliti amici, ma una volta che la direzione scientifica ha fatto della commissione interna che decidono i programmi e questi si finanziano perché il denaro è lì disponibile e viene speso velocemente. Nella burocrazia italiana non sempre le cose sono così. Certo, è molto importante, io personalmente lo faccio con molta partecipazione, non costa niente dare il 5x1000 all'IST San Martino. È chiaro che tutti noi stiamo stati colpiti in un modo o nell'altro dal fenomeno del cancro. Non personalmente, per fortuna qualcuno, qualcuno anche personalmente ne è uscito, qualcuno ha avuto familiari, persone care che hanno avuto il cancro e quindi naturalmente la ricerca è veramente fondamentale anche perché veramente ci sono tanti tipi di tumore e adesso non c'è più il tempo di farlo, ma sono convinto che se il professor Ferrarini mi raccontasse le cose che ha visto nel corso della sua carriera ci sono dei tumori che quando lei ha cominciato a fare questo mestiere erano sostanzialmente una condanna a morte, una sentenza peggio della ghigliottina, oggi invece magari sono malattie croniche che si portano avanti e che si sistemano comunque. Le facciamo un esempio solo, la leucemia mieloide cronica, quando io ero studente si diceva il giovane va incontro al trapianto e ha speranza di sopravvivere, l'anziano dopo tre anni muore. Oggi due pilloline al giorno e il paziente si cronicizza, nel senso che rimarrà un paziente etichettato come leucemia mieloide cronica ma le cellule leucemiche, grazie al GLIVE, che è questo farmaco che è stato il primo dei grandi farmaci cosiddetti mirati, è un farmaco che porta virtualmente a guarigione e questa è una cosa che è incredibile. Purtroppo la mieloide cronica è la malattia più semplice degli altri cancri, se così si può dire e speriamo di un giorno di poter... Di semplificare anche gli altri, rendere anche gli altri come un raffreddore o qualcosa di simile. Grazie professor Ferrarini, torneremo sicuramente a disturbarla per farci raccontare la vostra attività, mi raccomando il 5 per 1000, siamo vicini al momento delle dichiarazioni, ci siamo praticamente dentro, quindi se vi va e penso che sia sicuramente una buona idea, l'Ist San Martino è un istituto che può avere certamente il vostro contributo e merita la vostra attenzione. Tra poco torniamo a parlare ancora di sanità e cambiamo però argomento, sempre molto interessante, tra poco.